Si è rimesso in movimento il processo per la progettazione e la futura realizzazione del tratto a retino della E78, la Due Mari, l'eterna incompiuta. ANAS ha individuato l'agenzia che si occuperà della progettazione di questo tratto diviso in due lotti, che avrà un valore complessivo stimato in circa 500 milioni, con un finanziamento di quasi 8 milioni di euro per la sola progettazione. Potrebbe davvero sbloccarsi il nodo a retino così che nel 2022 dovremmo vedere partire i lavori. Proprio ieri qui ad Arezzo ho organizzato un incontro dove è venuta ANAS che ha fatto vedere qual è l'impostazione progettuale e qual è il livello di progettazione che loro hanno ripreso a fare per essere pronti al 2022, quando è stata dichiarata canterabile con il progetto pronto. Quindi mi sento di dire che questa può essere la volta buona.